salve a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale oggi ragazzi come potete ben vedere siamo qui sulla farmix simulator 2019 nella mappa no man's land però prima di iniziare innanzitutto vorrei fare un grande ringraziamento a voi perché finalmente dopo un duro anno di lavoro siamo arrivati alla bellezza di mille iscritti sono davvero tanto contento prima di iniziare vi ricordo ovviamente che sabato questo sabato che viene che non so ma vi lascio in sovraimpressione alle ore 18 uscirà lo speciale dei mille iscritti ora ovviamente vi lascio il video raga purtroppo non sono riuscito a registrare il video per oggi quindi vi subite il video che doveva in teoria uscire lunedì 21 della costruzione di due nuovi punti vendita spero che comunque il video vi piaccia lo stesso vi ricordo ovviamente di lasciare tanti bei like vi ricordo ovviamente che in descrizione potete trovare i miei link utili compreso il link e delle donazioni se volete fare un piccolo supporto al canale compreso il link per comparare questo ma anche tanti altri giochi scontati insomma raga trovate tutto in descrizione io vi lascio al video e buona visione grazie a tutti 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 grazie a tutti